Rimborsi di spese, trasporti, sanità, lavoro, scuole, commercio, appare... Giorgio Tirabasso. Non c'è una cosa di cui la politica non si sia approfittata in questa città. Ardenzi non ha un problema. Daniele Gliotti. E l'ho detto che era l'ultima volta che lavorava a Muzione. Squadra mobile. Operazione Mafia Capitale. In prima assoluta. A settembre, su Canale 5.